Buongiorno a tutti, allora noi l'anno scorso abbiamo intrapreso la strada di coraggio di liberare il futuro affrontando il tema del fallimento, dove fallimento per noi stava per dipendenza, stava per disabilità, stava per sapersi rialzare dopo una ricaduta. Salve a tutti, sono Riccardo del clan Fuoco Livorno VII-9. Noi abbiamo affrontato il capitolo su liberare il futuro, siamo scesi per gli spazi di aggregazione come può essere un cinema, un teatro o delle piazze che alcuni sono più vivi, alcuni più morti e abbiamo cercato di interagire con le persone, abbiamo cercato di creare un dialogo e le statistiche rilevate dalle nostre analisi dicono una forte mancanza di aggregazione sociale. Noi abbiamo deciso di parlare del tema dell'immigrazione approfondendolo, perché ci siamo resi conto che la conoscenza che ne avevamo noi clan era un po' limitata e anche nel nostro territorio, pur essendo un tema di grande attualità, se ne parlava ma con un po' di pregiudizi, un po' di approssimazione. Abbiamo scritto l'introduzione alla carta approvata il 9 agosto 2014. Noi, rover e scolte della GESCI, giovani cittadini italiani, riuniti a San Rossore, al termine di un anno che ci ha visti impegnati sul tema e sulle strade del coraggio, vogliamo oggi scrivere una carta che racconti quello che abbiamo vissuto, che rappresenti i valori in cui ci riconosciamo e che dichiari il nostro impegno per l'associazione, per il Paese e per la Chiesa a cui apparteniamo. Ci impegniamo a diffondere l'idea di politica come prima forma di servizio al bene comune e strumento di espressione democratica. Ci rivolgiamo agli adulti per dire loro di avere speranza e fiducia in noi e per chiedere loro di essere testimoni credibili. Voi avete fatto delle richieste. Agnese ha fatto una lista ben precisa di richieste, i servizi essenziali per le città, la consulta locale di giovani, la giornata nazionale del servizio, l'impegno sull'immigrazione, l'impegno sull'ambiente, ha fatto una lista ben dettagliata. Voi avete titolo e diritto di sentirvi a casa vostra se vogliamo fare di questo palazzo la casa della buona politica, perché voi state facendo politica, voi state facendo buona politica, voi fate la politica della partecipazione, del servizio. Che questa Costituzione possa sempre ispirarvi, perché qui dentro veramente ci sono tutti rappresentati in questa Costituzione. Non so se riuscite a leggere l'articolo 3 della Costituzione. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociali e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.